La Toscana è zona gialla per la seconda settimana consecutiva, quella dal 3 al 9 di maggio, lo conferma il Ministero della Salute che ha firmato l'ordinanza che manterrà per la Regione il livello minimo di restrizioni anti-Covid. Non solo contagi in discesa, ma anche la pressione sugli ospedali si sta lentamente attenuando. Al momento sono poco meno di 1.600 i ricoverati per Covid nelle strutture ospedaliere toscane. La discesa vera e propria è iniziata il 16 di aprile. Da allora ogni giorno i ricoveri sono andati a diminuire, a parte un paio di giorni di nuovi aumenti il 19 e 26 aprile che hanno rallentato la discesa. Ed è proprio il dato dei ricoveri uno di quelli presi in considerazione per valutare il colore. Una notizia positiva che si aggiunge al fatto che per la prima volta tutte le province hanno un indice di contagio sotto i 250 casi positivi per 100.000 abitanti. Un dato questo che tuttavia non deve far pensare che si possa abbandonare la prudenza. Diversa invece la situazione a Marradi dove i casi di positività al Covid restano alti, attualmente 37, e di fronte a questa situazione l'amministrazione comunale ha deciso di adottare per i prossimi 15 giorni misure più severe di contrasto e contenimento della trasmissione del virus. Il sindaco Tommaso Triberti, anche dopo il confronto avuto nei giorni scorsi col prefetto Guidi, ha adottato un'ordinanza urgente che dispone una serie di divieti e restrizioni dal 1 al 15 di maggio, come la limitazione degli spostamenti nelle abitazioni private, l'interruzione degli sport di contatto non autorizzati, con chiusura del campo in località Sant'Adriano e dello spazio limitrofo alla stazione ferroviaria. Limitazione dell'uso delle attrezzature sportive all'aperto, oltre che delle panchine, chiusura delle aree gioco in orari serali e notturni, divieto di consumazione entro i 50 metri da bar e attività di somministrazione, se non ai tavoli degli esercizi stessi.